Cambio shock per Barbara D'Urso. Da Pomeriggio 5 alla Rai? Ecco i dettagli. Barbara D'Urso, una delle figure più riconoscibili e discusse del panorama televisivo italiano, ha recentemente fatto parlare di sé per un possibile e sorprendente cambio di rotta nella sua carriera. Dopo aver trascorso una vita intera sotto l'ala di Mediaset, dove ha condotto per 15 anni il programma Pomeriggio 5, raggiungendo alti indici di ascolto, la sua carriera sembra prendere una svolta inaspettata. La notizia che ha scatenato il gossip è la possibilità che Barbara D'Urso possa trasferirsi alla Rai. Questa voce ha iniziato a circolare, dopo che Mediaset ha deciso di non rinnovare il suo contratto per Pomeriggio 5, lasciando il posto a Mirta Merlino. Dopo l'addio a Mediaset, Barbara ha trascorso l'estate a Londra, dove ha studiato inglese. Questo ha alimentato ulteriori speculazioni. Alcuni credono che il motivo di questo soggiorno londinese sia legato a un nuovo progetto per una fiction Rai. In particolare si parla di un ruolo nella popolare fiction di Rai 1, un professore con Alessandro Gasman, Damiano Gavino e Nicolà Maupas. Barbara D'Urso ha mostrato un grande entusiasmo per questa serie, come evidenziato dai suoi post sui social media. Secondo alcune fonti, potrebbe interpretare una professoressa d'inglese nella terza stagione della serie. Tuttavia, per ora, queste rimangono solo voci e nulla è stato confermato ufficialmente. Il futuro della D'Urso rimane incerto. Alcuni la vedevano approdare a Discovery, altri come ospite in programmi come Ballando con le stelle. A partire da dicembre, con la fine del suo contratto con Mediaset, Barbara sarà libera di intraprendere nuove strade e, conoscendo il suo spirito imprevedibile e la sua capacità di sorprendere, il pubblico è in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima mossa. Questo cambio di scenario per Barbara D'Urso rappresenta non solo un potenziale nuovo capitolo nella sua carriera, ma anche un esempio di come le figure televisive possano reinventarsi e adattarsi a nuovi contesti e sfide. La sua possibile transizione alla RAI, se confermata, potrebbe segnare un significativo cambiamento nel panorama televisivo italiano, dimostrando che anche i volti più noti e consolidati possono cercare nuove opportunità e accettare nuove sfide.